Saldo, 11 giugno 2018, questo ponte. Anni indietro ho fatto tanti youtube, tanti video riguardo questo ponticello. Mi piace, mi piace. Si trova? Lo percorro. Appena entra c'è una musica. E' una musica che si accende all'inizio, quando entra una persona su questo ponte. Deve essere nota questa musica, si è la danza del bosco. Che bello! Il bosco. Sono accabiate dopo Cervis e Meda. Va che bello quel sentiero là in fondo che tra poco ci vado. Peccato che ci sono le zanzare. Vi faccio vedere ancora questo ponticello di legno fatto nel vent'anni fa dagli abitanti di Mariano Comense. Venivo sempre qui anche in inverno con la neve. Ho fotografato i quadri sopra la neve. Poi quando c'è il temporale. Oggi è una giornata nuvolosa, però non piove. Avete capito? Sono a Mariano Comense, praticamente cambiate si chiama questa zona. Sono sceso comodamente col treno e spesse volte venivo qui a meditare, a far poesie, a disegnare. Poi ho girato le vallate di Bergamo, la Val Brembana, i laghi e oggi sono ritornato qui per ricordare. Accabiate! E qui ho un senso di meditazione. Si riflette su questo ponte. Ogni ponte che ho visto della Lombardia ha la sua particolarità, uno differente dall'altro. Ho fotografato tanti ponti della Lombardia, numerosi. Ognuno è significativo in modo suo. Vi saluto da Aldo. Qui ho scritto la poesia Il sentiero nel bosco. Aldo, un saluto dall'11 giugno 2018 alle ore 14.35. circa Aldo.